porta in avanti Scarnicchia, di nuovo nella metà campo della Juventus Ancelotti Falcao Di Bartolomei Conti Palla a Siove in area, Fruzzo, Turone, gol Gol di Turone che l'arbitro però su indicazione del guardaline annulla annulla evidentemente per fuori gioco di Turone Rivediamo l'azione Ecco il colpo di testa di Prusso, è il momento in cui bisogna valutare la posizione di Turone Turone è il giocatore l'ultimo sulla sinistra Vediamo un po' se possiamo decifrare Ecco In questo momento Non si può dire C'è Brandelli che sembra più indietro di Turone C'è Brandelli che sembra più indietro di Turone